Ciao a tutti e benvenuti a The Deep Dive. Oggi ci edentriamo nella vita e nella carriera di Ryan Gosling. Ah, Ryan Gosling, un attore capace di passare da ruoli romantici a personaggi complessi, ritagliandosi uno spazio unico a Hollywood. Sì, insomma, un attore che ha sempre qualcosa da dire, no? E per questa immersione, come la chiamiamo noi, ci affidiamo una biografia completa su YouTube, pubblicata dal canale Biografo. Un canale molto interessante, offre analisi approfondite. Esatto. Preparatevi a scoprire dettagli inediti a partire dalla sua infanzia canadese. Eh sì, perché non tutti sanno che Ryan è nato a London, Ontario, in Canada, nel mio non è menta detta. Giusto, e la sua non è stata un'infanzia semplice. Cresci in una famiglia numerosa, con un padre che per lavoro si trasferisce spesso. Immagina, continui traslochi. E a questo aggiungiamo un'educazione mormone piuttosto rigida. Una combinazione particolare, direi. Eh già, e Ryan, fin da piccolo, mostra un carattere ribelle, un'immaginazione fervida. Insomma, non proprio il bambino modello. No, tutt'altro. A scuola fa fatica ad adattarsi, litiga con i compagni, viene bullizzato. Povero Ryan. E sviluppa una vera e propria avversione per l'autorità. Beh, a pensarci, questa sua indipendenza la vediamo anche nelle scelte artistiche che farà più avanti. Vero. E le difficoltà a scuola lo portano ad essere istruito a casa per un anno dalla madre. Un'esperienza che, a quanto pare, gli ha permesso di sviluppare autonomia e indipendenza. Come dicevamo prima, caratteristiche che ritroveremo poi nella sua carriera. Interessante questo collegamento tra vita privata e scelte professionali. Ma quando nasce la passione per la recitazione? Beh, la scintilla scocca presto. Ryan canta ai matrimoni con la sorella, collabora con lo zio, un imitatore di Elvis. Oh, che famiglia. Cioè. E sviluppa un forte interesse per il mondo dello spettacolo, anche per allontanarsi da un futuro che sembrava già scritto. Lavorare nella stessa cartiera di padre e zii. La recitazione è come una via di fuga. Esattamente. E la svolta arriva solo i 12 anni. Partecipa alle audizioni per The Mickey Mouse Club. The Mickey Mouse Club. Un programma che ha lanciato star come Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera. Eh sì, un gruppo incredibile. Lui stesso ha definito quei due anni come i migliori della sua vita. Mi sa, che esperienza. Un periodo spensierato tra Disneyland e nuove amicizie. Ma attenzione, anche lì Ryan non rinuncia al suo lato ribelle. Sempre a far scherzi e a sfidare l'autorità, immagino. Esattamente. Un animo indipendente fin da giovanissimo. Sembra quasi che questa viene al ribelle e faccia parte del suo DNA. Ma dopo la chiusura del programma, cosa succede? Ryan torna in Canada e continua a recitare in show televisivi locali, ma il suo obiettivo è chiaro. Hollywood. A 70 anni si trasferisce a Los Angeles. E coraggio, 70 anni partire per un'avventura del genere. Eh già, ma gli inizi non sono facili. Si ritrova a recitare in produzioni per ragazzi come Young Hercules. Non proprio Rolly Rascal, insomma. È vero, ma sono esperienze che gli permettono di affinare le sue capacità e di capire che vuole dedicarsi al cinema. Quindi Young Hercules è stato un trampolino di lancio. Esatto. E il primo ruolo significativo arriva con The Believer, un film indipendente in cui interpreta un giovane ebreo diventato neonazista. Un ruolo forte, impegnativo. Sì, e The Believer gli va all'applauso della critica, segnando l'inizio di una carriera fatta di scelte coraggiose e non convenzionali. E finalmente arriviamo a 2004, l'anno delle pagine della nostra vita. Il film che lo consacra come idolo romantico. Milioni di spettatori hanno sognato con quella storia d'amore. È vero. Però non tutti sanno che la scelta di Gosling per quel ruolo non è stata scontata. Il regista Nick Cassavetes lo ha preferito ad attori più famosi perché non lo considerava un bello canonico. Davvero, incredibile. E pensare che la chimica tra lui e Rachel McAdams è stata una delle ragioni del successo del film. Eh sì, ma quanto pare sul set i due non si sopportavano. DTG continui. Ma dai. E poi, ironia della sorte, si sono innamorati anche nella vita reale. Già, una storia durata circa due anni che Gosling ha definito uno dei grandi amori della sua vita. Storia. Ma torniamo alla carriera. Le pagine della nostra vita lo consacra come star, ma lui non si accontenta. No, lui continua a bilanciare ruoli in film indipendenti con produzioni più commerciali. Ed è questo che lo rende così interessante. Esattamente. Questa capacità di alternare generi e registri. Di passare da film come Half Nelson, che gli valse una nomination all'Oscar, a commedie romantiche come Crazy, Stupid, Love. Un attore a tutto tondo. Senza dimenticare il suo talento musicale. Nel 2007 fonda la band Dead Man's Bones. Un progetto musicale, ispirato da storie di fantasmi e atmosfere gotiche. E ancora una volta Ryan dimostra la sua versatilità e la sua voglia di sperimentare. Direi che per questa prima parte possiamo fermarci qui. Sì, ma non temete. Torneremo presto con la seconda parte per esplorare gli anni della maturità artistica, l'incontro con Eva Mendes, la nascita delle sue figlie e il suo ritorno sul grande schermo con Barbie. Quindi rimanete con noi. Bentornati al nostro deep dive su Ryan Gosling. Nella prima parte lo abbiamo lasciato che cercava di costruire una carriera sfaccettata tra film indipendenti e produzioni commerciali. Già, e questa sua voglia di sperimentare lo porta nel 2010 a recetare In Blue Valentine. Un film intenso che racconta una storia d'amore dall'idilio iniziale al doloroso sgretolarsi del rapporto. I Gosling recita al fianco di Michelle Williams. Una coppia straordinaria. Per prepararsi al meglio i due attori hanno addirittura vissuto insieme prima delle riprese. Wow, deve essere stato impegnativo. Ma immagino che questo abbia contribuito a rendere le loro interpretazioni più autentiche. Assolutamente. E la critica ha apprezzato molto nomination ai Golden Globe e agli Oscar sia per Gosling che per la Williams. Un bel riconoscimento per un film indipendente. Che conferma il talento di Gosling e la sua capacità di affrontare temi complessi. E a proposito di temi complessi, nello stesso anno recita anche in Love and Secrets, un thriller psicologico. Dove interpreta il figlio di un rucco magnate sospettato di omicidio. Un ruolo che gli permette di esplorare il lato oscuro della natura umana. Insomma, non solo il bravo ragazzo romantico. No, no, tutt'altro. Ma non dimentichiamoci anche del suo lato ironico. Nel 2011 recita in Crazy Stupid Love una comedia romantica. Con un castellare. Steve Carell, Julianne Moore, Emma Stone. Un film divertente che dimostra la sua capacità di giocare con il suo sex appeal senza rinunciare alla sua approfondità. Un attore a tutto tondo, insomma. Eh sì, ma il 2011 è anche l'anno di Drive, un thriller d'azione. E vi interpreta uno stuntman che di notte lavora come autista per criminali. Un film con un'atmosfera noire, una colonna sonora elettronica pazzesca e performance intense. Che ha contribuito a costruire la sua immagine di attore cool e misterioso. Eh, esattamente. E sempre nel 2000 lo rivine ecco Lady Di Marzo, un dramma politico diretto da George Clooney. Dove Gosling interpreta un giovane idealista che lavora per la campagna elettorale di un candidato alla presidenza. Un film con un cast di alto livello, con Philip Seymour Hoffman e Paul Giamatti. Insomma, un altro film che dimostra la sua capacità di confrontarsi con ruoli impegnati. Sì, il 2011 è stato un anno davvero ricco per lui. Ma anche il 2012 non scherza. Recita, in come un tuono, un film che esplora i legami familiari e le conseguenze delle proprie azioni. Con una trama che si sviluppa su tre generazioni. Esatto. Gosling interpreta Luke, un motociclista spericolato che dopo aver scoperto di avere un figlio, decide di rapinare bance per garantirgli un futuro. Un ruolo che richiede una grande trasformazione fisica con tatuaggi e capelli decolorati. Eh sì, e proprio sul set di questo film incontra Eva Mendes. Che poi diventerà la sua compagna. Esatto. Tra i due è stato un colpo di fulmine, una relazione solida coronata dalla nascita di due figlie. Esmeralda Amada nel 2014 e Amada Lee nel 2016. Da quel momento Gosling inizia a bilanciare la sua carriera con la vita familiare. Scegliendo progetti che gli permettano di dedicare tempo alle figlie e a Eva, che si ritira dalle scene per dedicarsi alla famiglia. E questa nuova fase si riflette anche nelle sue scelte artistiche. Nel 2013 recita in Gangster Squad e in Solo Dio perdona. Due film molto diversi tra loro. Che dimostrano la sua voglia di sperimentare e di mettersi alla prova. Ma non è finita qui. Ned Domenifortin decide di dedicarsi alla regia. Davvero. Scrive e dirige Lost River, un thriller fantasy ambientato in una Detroit decadente e surreale. Un film che riceve recensioni contrastanti. Ma che dimostra la sua ambizione artistica e la sua voglia di esplorare nuovi linguaggi. Quindi da attore regista? Un'altra sfida. E sì, ma cosa succederà dopo questa esperienza? Tornerà alla recitazione? Lo scopriremo nella terza e ultima parte del nostro Deep Dive su Ryan Gosling. E bentornati alla terza parte del nostro Deep Dive su Ryan Gosling. Lo avevamo lasciato alle prese con la regia con Lost River. Un'esperienza particolare, ma la pausa della recitazione dura poco. Infatti già nel 2015 torna sul grande schermo. Con la grande scommessa, un film che racconta la storia di un gruppo di investitori che hanno previsto la crisi del 2008. Ah, interessante. E Ryan che ruolo interpreta? Jared Bennett, un banchiere ambizioso che scommette contro il sistema finanziario. Un ruolo non proprio da bravo ragazzo. È già un personaggio complesso e moralmente ambiguo e la sua performance gli vale una nomination ai Golden Globe. Un bel ritorno. Ma se il 2015 è il ritorno alla recitazione, il 2016 è l'anno di La La Land. Che film! Un music romantico diretto da Damien Chazelle. Con il quale Gosling aveva già lavorato in Whiplash. Esatto. Un film che ha incantato pubblico e critica, con ben 6 premi Oscar. Tra cui miglior rezuais e miglior attrice protagonista Emma Stone. Che ritrova Gosling sul set dopo Crazy Stupid Love. Beh, per prepararsi al ruolo di Sebastian, pianista jazz, Gosling ha dovuto imparare a suonare il pianoforte e a ballare. Ancora una volta, dimostra la sua dedizione e la sua professionalità. Si immerge completamente nei suoi personaggi. Eh sì. E nel 2016 recita in Song to Song un dramma musicale diretto da Terence Malick. Ambientato nella scena musicale di Austin, Texas. Con un cast eccezionale, Michael Fassbender, Rooney Mara e Natalie Portman. Gosling interpreta B.V., un musicista di successo. Che si innamora di Faye, interpretata da Rooney Mara. Un film che esplora l'amore, la musica, la ricerca della felicità. Con lo stile visivo tipico di Malick, onirico e poetico. Ma il 2016 è anche l'anno di Blade Runner 2049. Sequel del culto del minore otteretù. Diretto da Denise Villeneuve. Un film visivamente spettacolare. Gosling interpreta la gente K, un Blade Runner che dà la caccia ai replicanti. Un ruolo non facile, considerando l'eredità del primo film. E la grandezza di Harrison Ford. Però Gosling riesce a dare al suo personaggio una profondità unica. E a proposito di sfide, nel 2018 Gosling torna a collaborare con Chazelle per First Man, il primo uomo. Un film biografico su Nila Nostra nel primo uomo sulla luna. Che dire, un altro ruolo impegnativo. Gosling offre un'interpretazione intensa e misurata. Che gli vale un'altra nomination è A Golden Globe. Dopo una pausa per dedicarsi alla famiglia nel 2022, Gosling torna con The Gray Man. Un action thriller diretto dai fratelli russo. Registri di Avengers, Endgame. Prodotto da Netflix con un budget altissimo. Gosling interpreta Court Gentry, un agente della CIA in fuga. Un film pieno di azioni e suspense. E arriviamo al 2003, l'anno di Barbie. Diretto da Greta Gerwig. Una reinterpretazione ironica e femminista della bambola Mattel. Un film che ha sorpreso tutti, diventando un fenomeno culturale. E Gosling nei panni di Ken è perfetto. Ha saputo dare al personaggio un'ironia irresistibile. Direi che Barbie chiude un cerchio per Ryan Gosling. Dopo una carriera piena di successi, eccolo, tornare alla commedia. Ma con una maturità artistica completamente diversa. Ryan Gosling è un attore che ha saputo costruire una carriera straordinaria. Passando dai ruoli romantici a personaggi complessi. Un artista che ha sempre dimostrato grande dedizione al suo lavoro. E una costante ricerca di qualità. Beh, che dire, siamo certi che Gosling continuerà a sorprenderci. Con nuove sfide e nuove interpretazioni. Confermando il suo posto tra i grandi del cinema. E voi cosa ne pensate della carriera di Ryan Gosling? Qual è il vostro film preferito? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie per averci seguito in questo Deep Dive. Alla prossima immersione nel mondo del cinema e dello spettacolo.